Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Vi capita mai di rileggere un libro e di trovarvi ad ogni rilettura nuove nicchie da esplorare, nuovi percorsi da perlustrare, nuove emozioni da vivere? A me sì e immagino anche a voi. Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi è uno di quei libri che non finirei mai di rileggere, un vero classico, un piccolo capolavoro della letteratura contemporanea. Pereira è un giornalista di mezza età responsabile della pagina culturale di un piccolo quotidiano del pomeriggio in Lisboa. La storia si svolge in Portogallo. È un uomo che si pone mille questioni esistenziali. È un uomo che parla col ritratto della moglie prematuramente scomparsa. È un cattolico attraversato da mille dubbi. Pereira era cattolico, almeno in quel momento si sentiva cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa ne riusciva a credere, nella resurrezione della carne. Nell'anima sì, certo, perché era sicuro di avere un'anima, ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere. E poi perché? Si chiedeva Pereira. Tutto quell'ardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No, non voleva tutto questo in un'altra vita per l'eternità, Pereira. Non voleva credere nella resurrezione della carne. Pereira conduce una vita tranquilla, una routine serena, la sua casa, la piccola redazione del suo giornale, ma un giorno incontra qualcuno che metterà in crisi questa sua routine quotidiana, questa sua piccola vita fatta di piccole certezze. Incontrerà un sovversivo, incontrerà un giovane dissidente, oppositore del sistema politico, oppositore della dittatura sanguinaria di Salazar, che in quegli anni, siamo nel 1938, insanguinava il Portogallo. Riuscirà Pereira a superare questa sua metodicità di vita? Riuscirà, come, diciamo, un suo amico a non frequentare più il passato e a cominciare a frequentare il futuro. Pereira chiese a Silva cosa ne pensava di tutto questo. Tutto questo cosa, chiese Silva, un suo amico col quale stava scenando. Tutto, disse Pereira, tutto quello che sta accadendo in Europa. Oh, non ti preoccupare, replicò Silva, qui non siamo in Europa, siamo in Portogallo. Pereira sostiene di avere insistito. Si, aggiunse, ma tu leggi i giornali, ascolti la radio, lo sai cosa sta succedendo in Germania e in Italia? Sono fanatici, vogliono mettere il mondo a ferro e fuoco. Non ti preoccupare, rispose Silva, sono lontani. D'accordo, riprese Pereira, ma la Spagna non è lontana, è a due passi e tu sai cosa succede in Spagna? È una carneficina. Eppure c'è un governo costituzionale, tutto per colpa di un generale bigotto. Anche la Spagna è lontana, disse Silva. Noi siamo in Portogallo. Sarà, disse Pereira, ma anche qui le cose non vanno bene. La polizia la fa da padrona, ammazza la gente, ci sono perquisizioni, censure. Questo è uno stato autoritario, la gente non conta niente, l'opinione pubblica non conta niente. Riuscirà Pereira dunque a trovare la chiave giusta per rispondere a questa esigenza interiore che comincia a possederlo. Ve lo lascerò scoprire, lo lascerò scoprire ai professori di storia che volessero in qualche modo approfondire questa dittatura del Novecento che passa un po' così inosservata, un po' come dire una dittatura di serie B rispetto al fascismo, al nazismo, al franchismo. Una lettura che vi consiglio davvero caldamente. Grazie per averci, per avermi ascoltato e mi raccomando non mancate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie a tutti.